Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! In questa settima domenica giungiamo al nocciolo della vita cristiana, amare il nemico e diventare misericordiosi come il padre. Al sentire queste parole tre tentazioni possibili sono pensare che non siano vivibili della serie e chi ce la fa, o farne un moralismo, o ridurle a utopia, a pia poesia. Tutta più, come ha detto il Papa, lasciamo queste cose alle suore di clausura che sono sante o a qualche anima santa, ma non è l'atteggiamento giusto. Le parole di Gesù per un cristiano sono vivibili e da vivere, se no non possiamo dirci veramente cristiani. Il Vangelo infatti inizia dicendo, ma a voi che ascoltate dico. Gesù si sta rivolgendo ai suoi discepoli, a coloro che lo ascoltano, che lo seguono. Sta parlando a noi che abbiamo creduto al suo amore, che gli abbiamo aperto il cuore, e vi siamo stati immersi per mezzo del battesimo, che attingiamo a quest'amore folle potente di Dio che ci ha amati mentre eravamo nemici, e vi attingiamo per mezzo dei sacramenti, per mezzo della preghiera, meditando la sua parola, e dunque siamo chiamati a riversarlo sugli altri. Dividendo il brano in due parti potremmo dire che nella prima strofa abbiamo quattro imperativi che ci accompagnano quasi in un crescendo a riscoprire la concretezza dell'amore. Amate i vostri nemici. Ecco, qui in greco abbiamo il verbo agapao, è il verbo usato per descrivere l'amore di Dio per noi. Un amore totale, gratuito, costante, generoso. Dunque Gesù dice, riversate quell'amore che Dio ha per voi. Amate di quell'amore che sa di Dio i vostri nemici. È qui che si vede se Dio regna davvero in noi. Vedete, parlando di nemici non dobbiamo pensare solo a persone che ci hanno fatto chissà quali torti, ma a persone con le quali abbiamo difficoltà o che ci hanno ferito in qualche modo. Bene, il Signore cosa ci chiama a fare? Ad amarle. San Massimiliano Colbe diceva che solo l'amore crea, ed è proprio così. In questo caso potremmo dire che l'amore al nemico ricrea. Ricrea il cuore di chi ama, può ricreare il cuore di chi si sente amato e può ricreare occasioni di comunione. Perché non pensiamo che si tratti di un amore ideale fatto di piede, sfarfallì di cuore o vane parole? Ecco i tre verbi successivi che concretizzano ulteriormente il tutto. Fate del bene a quelli che vi odiano. Siamo davanti alla concretezza dell'amore che si esprime più nei fatti che nelle parole e consiste nel sentire il bene dell'altro come mio bene e donarmi per realizzarlo. Fate del bene a quelli che vi odiano. Qui non si tratta di fare un bene qualunque, magari denti stretti, tieni per stavolta, e neanche un bene fatto con arroganza per mostrare all'altro la nostra superiorità. Si tratta del bene, di ciò che è veramente bene per lui, punto. E ancora, benedite coloro che vi maledicono, dite bene di coloro che vi dicono male. In questo in Italia, grazie a Dio, siamo bravissimi. La lingua la usiamo tutti benissimo, nella società, nelle comunità cristiane, in famiglia. Nessuno dice male degli altri, né tantomeno si dice male di quelli che dicono male di noi. Quindi, grazie a Dio, su questo ci siamo. E poi ancora, pregate per quelli che vi maltrattano. Sembra quasi il punto d'arrivo, vedete? Come l'ultimo livello dell'amore che passa attraverso le mani, fate, la bocca, dite bene, e si arriva al cuore, pregate. Ma è molto bello perché la preghiera non è solo il punto d'arrivo, ma è anche un punto di partenza. Vedete, noi a volte abbiamo difficoltà con delle persone, no? Sarebbe bene partire proprio da qui, dal pregare per loro. E questo ci richiede un po' di disciplina. Nel tempo della preghiera fermarci, pensare a quelle persone con cui abbiamo difficoltà, e presentarle a Dio. Non per dire, Signore, guarda che mi ha fatto, pensaci tu, ti raccomando a suo tempo, fai giustizia. No, parlare a Dio di quella persona, Signore, ti prego per questa persona, toccale il cuore. E poi chiedere a Dio la grazia di toccare il nostro cuore. Signore, liberami dal risentimento, aiutami a guardarla come tu la guardi. Sì, perché Dio sta amando anche lei, Dio non ha nemici, e sta amando anche quella persona con la quale in questo momento noi abbiamo difficoltà. Sono molto belle le parole che scrisse Dietrich Bonhoeffer. Riconoscere la croce di Gesù Cristo come l'invincibile amore di Dio verso tutti gli uomini, verso di noi, come verso i nostri nemici, è la più grande sapienza. O crediamo che Dio ami noi più di quanto ama i nostri nemici? Crediamo forse di essere i beniamini di Dio? Dio ama i nostri nemici, ecco quel che ci dice la croce. Per loro egli soffre, per loro conosce la miseria e il dolore, per loro ha dato il suo figlio amato. Per questo è di capitale importanza che dinanzi a ogni nemico che incontriamo subito pensiamo, Dio lo ama, per lui Dio ha dato tutto. Anche tu ora, dagli dunque ciò che hai, pane se ha fame, acqua se ha sete, aiuto se è debole, benedizione, misericordia, amore, ma lo merita? Sì, chi è bisognoso del nostro amore più di colui che odia? Chi è più povero di lui? A tal proposito mi viene in mente una bellissima meditazione di Jean Vanier che raccontò dopo aver incontrato una donna di etnia Tuzzi cui erano stati uccisi 37 parenti. Chiaramente parlando con questa donna si rese conto che non avrebbe potuto proporle di invitare a cena di colpo gli assassini dei suoi cari. Chiaramente non poteva essere questo il senso del comando evangelico di perdonare. Man mano che parlava con lei si rese però conto che quella donna aveva già deciso in cuor suo di non vendicarsi se avesse incontrato uno di quegli assassini ed era già un primo passo sul difficile cammino del perdono. Man mano parlando con questa donna si rese conto che lei desiderava che gli assassini si rendessero conto del male compiuto e si convertissero chiedendo perdono a Dio. Era un secondo passo verso un perdono più profondo. Parlando si rese conto che la donna stava riconoscendo che la sua etnia aveva anch'essa fatto del male la tribù rivale nel corso dei secoli. Questo chiaramente non dava ragione o giustificava la violenza dei suoi nemici ma significava un ulteriore passo verso il perdono. Infine si rese conto che quella donna diceva io non ho ancora la forza di perdonare ma chiedo a Dio di perdonarli e prego perché non siano condannati eternamente. Concluso il racconto commentando non ha forse anche Gesù pregato il padre dicendo padre perdona loro perché non sanno quello che fanno? Questa testimonianza ci ricorda come il perdono sia un lungo cammino di come l'amore al nemico non sia una cosa da niente ma una strada stretta lunga e meravigliosa possibile in comunione con il Signore e seguendo le sue parole. Quindi nella seconda parte Gesù motiva l'imperativo dato precedentemente. Se amate quelli che vi amano quale grazie avrete? Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene quale grazie avrete? Se prestate a coloro da cui sperate ricevere ma quale grazie avrete? Anche i peccatori fanno così. Anche una persona che non vive un rapporto con Dio è capace di amare chi la ama, di fare del bene a coloro che le fanno del bene o di prestare se è sicura di ricevere. Per carità è già qualcosa e quanto andremmo meglio se tutti lo facessero ma in fondo cos'è? Dare perché mi ha dato e sdebitarsi. Dare se ricevo o dare per ricevere o dare in vista di ricevere cos'è? È uno scambio, una sorta di commercio, è un amore incastrato nei limiti delle forze umane frammisto di egoismo. Amo l'altro se se lo merita. L'amore non si merita, l'amore è un dono. Una forma di educazione che ti fa percepire amato solo se sei bravo crea schiavi, non uomini e donne liberi. È un amore che non sa farsi carico del male dell'altro, che non rende felice né chi lo dà né chi lo riceve. Ripeto, già meglio di niente per carità, ma siamo ben lontani dalla grazia. Ecco perché Gesù ci dice amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'altissimo perché egli è benevolo verso gli ingrati e verso i malvagi. La nostra ricompensa, miei cari, se ameremo così sarà grande. Non è una ricompensa economica, non è neanche soltanto la coscienza pacificata, né tantomeno l'orgoglio soddisfatto. È il dono più sublime, l'essere in comunione con Dio ora e per sempre. Diventare realmente figli di Dio, come Lui, sua trasparenza nel mondo, giungendo a somigliare sempre più al nostro Papà, al nostro Papà che nei cieli. Diventate dunque misericordiosi come il Padre vostro e misericordioso. Ecco il cammino di perfezione che ci è spalancato davanti. Diventare come Lui, misericordiosi come Lui, amando del suo amore, perché tanti, anche attraverso di noi, possano sentirsi amati da Lui e tanti, guardandoci, possano arrivare a dire ma guarda che bello, tale Padre, tali Figli. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!